Il porcino edulis, noto anche come fungo porcino, è una specie di fungo molto apprezzata in ambito culinario. Appartenente alla famiglia delle boletacee, questa varietà è diffusa principalmente nelle foreste di latifoglie e conifere dell'emisfero settentrionale, in particolare in Europa e in Nord America. Le caratteristiche distintive del porcino edulis sono il cappello carnoso, di forma conversa, di colore marrone scuro o ocra, e il gambo massiccio. Cilindrico ed ha il colore simile.è un fungo che cresce principalmente d'estate e inizio autunno, tendendo a formare colonie. Dal punto di vista culinario, il porcino edulis è molto apprezzato per il suo sapore delicato e il profumo intenso. È spesso utilizzato in diverse ricette, sia come ingrediente principale che come condimento. La sua consistenza carnosa e il gusto leggermente nocciolato lo rendono una delizia per i palati più raffinati. Tuttavia, è importante precisare che il porcino edulis deve essere raccolto con attenzione, in quanto potrebbe essere scambiato con altre specie di funghi molto simili e potenzialmente tossici. Per evitare rischi di avvelenamento, è consigliabile rivolgersi a esperti o partecipare a iniziative di micologia. In conclusione, il porcino edulis è un fungo dalle caratteristiche uniche, apprezzato per il suo sapore e profumo intensi. Se consumato in modo corretto, può arricchire molte preparazioni culinarie, donando un tocco di autenticità e prelibatezza.